Musica Ermanno Olmi, cantore del mondo minimo, segreto, mondo segreto nelle periferie oppure qui tra le sue montagne che sono memoria di un tempo lontano che però è ancora così presente, lei, posso usare il termine, è una persona naturaliter cristiana come si diceva una volta, cioè un uomo che si lascia interrogare dal mistero e dal destino dell'uomo e si mette in qualche modo a servizio con docilità ma anche con una inquietudine, cioè mai d'uomo, lei sta facendo un film non so ancora se per il cinema o per la televisione, su Carlo Maria Martini, sul Cardinale di Milano un po' perché ne era amico ma forse peraltro perché rappresentava un tipo di chiesa, che le è caro? Ebbè quella chiesa che riconosce di essere indietro di 200 anni e non è che poi Martini abbia fatto questa dichiarazione accontentandosi che diventi questo uno slogan ecco e quindi magari così pomposamente altisonante ma slogan ecco perché proprio sente il disagio di una chiesa che non è al passo coi tempi e quindi ha bisogno di compiere quell'operazione di messa a punto del motore a cui accenevamo nel dire se non ha le condizioni giuste è sfasato e quindi lavora male. È il momento in cui Martini sente che siamo arrivati al momento in cui con coraggio dobbiamo ammettere che molto spesso le istituzioni religiose sono più indietro per questo lui ha avuto nell'ultimo istante della sua vita il coraggio di tutte queste pause me le devi lasciare perché le sto pensando in questo momento per la prima volta lui ha avuto il coraggio nell'ultimo gesto di benedizione che ha fatto ad alcuni preti i suoi collaboratori e forse sarà che io ho intravisto cose che magari no ma ma sono convinto che è così che nel fare il gesto della benedizione guarda caso guardò proprio in macchina quindi indirizzandolo non solo a me a tutti il suo dubbio e mi sono detto ma possibile un uomo un cardinale un cardinale ma un uomo che teologo studioso delle sacre scritture che ha dedicato tutta la vita alla chiesa tutta la vita cosa all'ultimo istante mentre guarda proprio nell'obiettivo e ha come dire ma cosa sarà ecco io muoio e cosa sarà il paradiso, l'inferno una volta c'era persino il limbo no quindi proprio eh no io credo che dobbiamo come uomini che fanno riferimento come persone così si mettono insieme gli uomini e le donne come persone questo come dire sapere che l'ultimo istante sarà un istante di dubbio questo non dà l'angoscia però no no io credo di no credo invece che sarà senz'altro un dubbio se noi ci rifacciamo a modelli che in qualche modo la chiesa nel corso dei secoli ha messo in un ordine di valori che vanno come dire dalla scioltezza di spirito e di modi di Bergoglio a quelli che invece ritengono che un russuoso appartamento valga più di qualsiasi altra cosa ecco che era sicuri no sono certissimo che quel signore lì che occupa un appartamento così grande e ricco non si sentirà mai sicuro morire con il dubbio è cristiano questo? sì padre mio perché mi hai abbandonato pensa al dubbio di Cristo mentre sta morendo il cardinale Martini è stato un uomo di dubbio ma anche una presenza autorevole è un compagno di strada posso dire un padre quando diceva sono uno di voi però nello stesso tempo era padre a lei è mancata la figura di suo papà? neanche per sogno io lo ricordo molto bene quando è morto avevo 13 anni mio padre un sano socialista come lo erano i ferrovieri di quel tempo tutti i ferrovieri erano socialisti era il progresso con giustizia nella locomotiva di Guccini ecco ecco e io lo ricordo proprio in questi due anni che rimase senza lavoro perché non aveva mai voluto iscriversi al partito fascista e allora quando andava a cercare lavoro diceva lei ha la tessa del partito sì va bene no allora non possiamo darle un lavoro pensi un po' e mio padre è stato due anni senza lavorare tanto che io ricordo avevo 10-11 anni in quel momento ricordo che mia mamma diceva ma ti rendi conto diceva mio padre ma ti rendi conto che per una tua idea no non era una sua idea bizzarra era un ideale di dignità perché con questo non voglio fare il santino di mio padre ma se tutti avessero avuto questa dignità non ci sarebbe stato il fascismo ecco quindi non le è mancata una paternità e un sentirsi figlio oggi è molto difficile però avere figure di padri non a caso tutti si attaccano al papa anche quelli che cristiani non sono ma sì ma guardi se noi abbiamo bisogno come tutti abbiamo bisogno del soccorso di un amico sempre sempre almeno uno poi anche magari fra tanti però c'è quello che più corrisponde al tuo essere quella persona no questo come dire questa necessità di non sentirsi soli è stato l'atto nella creazione che il creato deve correggersi che il creatore del creato deve correggersi per cui accidenti si accorge che Adamo è triste perché non aveva una compagna ma non la compagna intesa proprio come tutto ciò che vale il dialogo e pensa che il creatore che dice oh coccane ho sbagliato perché il creatore non ha compagni non ha amici le figure modello a cui ci ispiriamo ma ce ne sono sicuramente tantissime e che noi guardiamo più le persone che invece hanno successo e quindi come dire creiamo le condizioni semmai per avere dei falsi amici mi viene in mente la pubblicità questi che occhieggiano dalla televisione e sembra che quasi si prendano cura si prendano cura soprattutto di noi come singoli che siamo lì davanti mentre invece è come dire una una sorta di tradimento perché non stanno parlando con me per essere loro amico mio e io amico loro ma perché hanno qualcosa da vendermi che non è solo un prodotto un'ideologia una come dire appartenenza a determinati gruppi che si distinguono rispetto quindi in sostanza l'uomo è solo c'è proprio in Martini la configurazione di tre momenti che lui chiama le tre pesti solitudine corruzione violenza le tre pesti del nostro tempo da cosa nascono tutte dalla solitudine quindi vogliamo castigare gli altri se ci pare che loro abbiano invece come dire sistemata la questione della solitudine difficile la solitudine si può sistemare fino in fondo o c'è un momento in cui è necessaria per esempio davanti alle domande della vita davanti al destino siamo soli o no? no no ci sono come dire persone che sanno utilizzare quella che noi chiamiamo la solitudine facendo delle cose il tipico ecco modello di solitudine triste è Leopardi è un solitario triste che non accetta di esserlo ma tutto quello che fa lo fa proprio come a dichiarare che non è affatto solo uno non scrive una poesia per nasconderla nel cassetto se scrive una poesia per esaltare un sentimento umano non è solo quindi attenzione anche qui che ci sono dei termini che non danno sufficiente chiarezza a una come dire a una certa osservazione del vivere lei fa cinema per un compito per un racconto per denuncia tanti no? suoi colleghi fanno cinema per una di queste cose sì 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 per carità no 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 ma io come dire non ho nulla da insegnare agli altri non sto facendo l'affermazione preferisco essere discepolo che maestro Peter Brook quando lo chiamano maestro dice io mi giro indietro a vedere chi è un altro straordinario personaggio che è Martin Buber che dice maestro io per favore Bidello Bidello però lei lo sa che invece è maestro di molti anche giovani aspetta aspetta un attimo Bidello chi è il Bidello se non quello che sa tutto della scuola che apre e chiude le porte che apre e chiude le porte che tira le orecchie ai monelli che va il vero responsabile della scuola è il Bidello così è chiaro e quante cose sa il Bidello quante cose lei è un Bidello che è stato amico di Papa Oitiua amico di grandi scrittori io sono stato profondamente ammirato però io non l'ho mai incontrato davvero non l'ho mai incontrato neanche quando ha diretto quel giubileo del 2000 vabbè ma io ero in un cantuccio in uno dei vostri pullman della televisione a dire Camera 1 ecco non l'ho mai incontrato non l'ho mai incontrato non l'ho mai incontrato non ha mai incontrato un Papa di persona sì ho incontrato non da Papa Roncalli certo però poi Montini il nostro Papa Pianista Papa Pianista Papa di Missionario Benedetto Benedetto il Papa Pianista è bellissimo bellissimo lei ha detto che è stato un gesto perché lui era felice quando suona lei ha detto che è stato un gesto coraggioso perché si è reso conto che la Chiesa stava mancando il suo appuntamento con la storia l'ha detto così l'ha detto lei ah sì ho detto una bella cosa sì quindi non è stato un atto né di viltà né di paura no 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 ma l'inizio di una rivoluzione sì lei la sta vedendo questa rivoluzione della Chiesa oggi che ha sempre auspicato in tutti i suoi film lei ha sempre auspicato sì poi bisogna stare attenti anche a fare le rivoluzioni no allora quando è la festa dei re magi 6 gennaio 6 gennaio i re magi chi erano dei sardi sapienti erano dei maghi brava maghi nel senso di sapienti sapienti soprattutto allora sarebbero diciamo gli intellettuali del loro tempo vengono a sapere che è nato il re dei re e cammina 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 arrivano alla capanna vedono il bambinello lasciano i loro doni ma prima di entrare in città oppena entrati chiedendo dove era il bambinello glielo hanno indicato che era in una grotta erano grotte dove si faceva il pane sotto betelemme che era in una grotta e che c'era qualcun altro che lo stava cercando di nome erode che era il re di quella e che voleva conoscere questi sapienti che erano arrivati da Oriente perché questi tre sapienti avendo ricevuto l'invito da Erode vanno prima da Erode che dal bambino come mai già tipico degli intellettuali che sono intellettuali quelli diciamo di serie che sono sempre lì pronti a vedere dove gli conviene o non gli conviene perché il potere attira e allora cosa fanno vanno subito da Erode Erode dice ho saputo che appena avete trovato il bambino venite a dirmi dov'è che anch'io andrò ad adorare se non c'era l'angelo che gli appariva in sogno loro andavano allora brava vedi lì quando diciamo certi personaggi come questi qui sono in difficoltà fanno parlare gli angeli ho visto un angelo che ah sì che mi ha detto non tornare da Erode che ha brutto scappa non hanno neanche avvertito il bambino Giuseppe e Maria scappano in silenzio vergognoso sa che è la prima persona che mi parla così male dei re magi ma guardi basta pensare che quando facciamo il presepio arrivano i re magi finito il presepio allora che era così bello il presepio arriva a loro basta questa è una lezione meravigliosa una lettura fantastica quindi quindi i dogmi e i libri come dice il suo protagonista di Cento Chiodi non salvano contengono le cose bellissime io so che lei li ama i libri e tanto più i libri della parola di Dio ma non è lì la salvezza no perché noi ci accontentiamo di dire ah io credo tutto quello che c'è scritto in quel libro sono ecco troppo anzi è comodo è vile dopo che hai letto e hai capito devi agire no passano un altro libro è di libro in libro poi i papi scrivono tanto quindi ci si accontenta a leggere c'è da guadagnare ci si mette la coscienza a posto mi regali una canzone che chiudiamo con una musica che rappresenta ora l'anima di Ermanno Olmi una canzone che lei è cara e che racconta a sé guarda io diciamo già se nominassimo uno come di Andrè ah però beh guarda io pensavo un canto degli alpini no 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 sto parlando adesso del repertorio che oggi circola no fra e lo trovo come dire di una grazia di un'ironia straordinaria poi ce ne sono molti altri cosa le piace di De Andrè mi piace quella dove anche il prete aspetta la bocca di rosa bocca di rosa si prende una bella responsabilità si 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 mi piace moltissimo anzi dirò che il loro comandato anche una sera lì da ai ragazzi ma fare l'amore non è peccato è peccato se fare l'amore lo si fa senza amore e quindi questa è una cosa di una tristezza unica è come è come dire voler per esempio più semplice forse sarebbe voler mangiare una cosa anche se non hai fame giusto perché è lì e quindi compi quest'atto senza averlo atteso immaginato sognato compiuto lasciando un ricordo bellissimo quindi fate fate l'amore ma fatelo bene amando col sesso eh certo è un modo altissimo sublime irripetibile è una facoltà come dire che tutti gli altri esseri viventi lo fanno perché obbediscono a una legge naturale del mantenimento della vita ma voi a questo a questa funzione animale nel senso rispettosissimo no perché anche noi siamo animali animali ma abbiamo la facoltà della poesia e quindi di rendere questo atto un momento di felicità indimenticabile lei ha appena letto qualcosa della Moris Letizia l'esortazione apostolica di Papa Francesco vero su questo tema però io mi auguro che voi voi di questa televisione che ha grande dignità questa tv 2000 affrontateli questi argomenti abbiate proprio come dire la gioia di avere coraggio grazie grazie cominciamo con Bocca di Rosa ad avere coraggio la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore metteva l'amore la chiamavano Bocca di Rosa metteva l'amore sopra ogni cosa appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario c'è chi l'amore lo fa per noia chi se lo sceglie per professione Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie e fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva